Dopo la pausa estiva riprendiamo la tradizione di letture sull'arte con uno spunto di riflessione niente meno che di Ler Tolstoi tratto da scritti sull'arte di Tolstoi, Boringhieri, editore. Scrive il grande russo Nel nostro tempo l'uomo che desidera occuparsi d'arte non aspetta che nella sua anima sorga un contenuto importante e nuovo che egli possa amare veramente e amandolo rivestirlo di forma adeguata bensì prende uno dei contenuti più correnti in un determinato periodo e più lodati dalle persone che egli considera intelligenti e gli dà come meglio sa una forma artistica oppure sceglie il tema che gli permetta di esibire il massimo della sua maestria tecnica e con cura e con pazienza produce ciò che considera opera d'arte oppure ancora dopo aver ricevuto un'impressione gradevole prende ciò che gli è piaciuto per tema della sua opera immaginandosi che ne risulterà un'opera d'arte perché quell'impressione gli è piaciuta e così ecco una quantità immensa di cosiddette opere d'arte che possono essere prodotti come un qualsiasi lavoro da mestierante senza la minima interruzione idee correnti e di moda esistono sempre nella società con un po' di pazienza è possibile imparare qualsiasi mestiere e ci sarà sempre qualcosa che piacerà a tutti da ciò è nata nel nostro tempo la strana situazione per cui tutto il nostro mondo è in gromburo di opere che pretendono essere opere d'arte ma che invece si distinguono dai prodotti degli altri mestieri solo in quanto non servono a nulla anzi spesso sono addirittura dannose è come se la gente del nostro tempo avesse detto a se stessa le opere d'arte sono buone e utili bisogna dunque fare in modo che ve ne siano parecchie infatti sarebbe molto bene se ve ne fossero molte ma il guaio è che su ordinazione si possono fare solo opere che sono abbassate al livello di mestiere tuttavia una vera opera d'arte non si può fare su ordinazione perché lo stato d'animo dell'artista dal quale deriva l'opera d'arte è una superiore manifestazione della conoscenza una rivelazione dei segreti della vita e se questo stato è una conoscenza superiore allora non può esserci un'altra conoscenza che possa guidare l'artista ad acquistare questa conoscenza superiore la riflessione di Let's Talk Story francamente ancora oggi è attuale